Da tempo abbiamo un'arma potente per sconfiggere nemici pericolosi. Gli antibiotici. Non usarli in caso di raffreddore o influenza, ma solo dietro prescrizione medica, nei tempi e nelle dose indicate, altrimenti si rischia di rendere i batteri più resistenti alle difese e si neutralizza la nostra arma preziosa. Usa gli antibiotici con cautela. Difendi la tua difesa. Grazie.